Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Club Napoli Night dopo la sosta anche, la nostra di sosta. Ricomincia il campionato, domenica ci sarà la sfida all'Atalanta, a Bergamo, Napoli che affronterà gli Orobici, mentre ci sarà un altro big match che è quello tra la Juventus e l'Inter. Si ritorna a parlare di campionato dopo la debacle della Nazionale e soprattutto si parla di quale può essere il Napoli che affronterà l'Atalanta. Tra infortuni e soprattutto le squalifiche è una squadra che dovrà affrontare gli Orobici con la tattica o con il cuore per battere questa formazione di Gasperini. Lo chiediamo a voi ma lo chiederò come al solito a Raffaele Auremma come tutti i giovedì. Ciao Raffaele, grazie di essere con noi. Ciao Francesco. Quindi tu pensi che una delle due cose non sia necessaria per battere la tattica? No, serviranno assolutamente tutte e due, però sai se dobbiamo scegliere, perché facciamo sempre la nostra domanda e il nostro sondaggio anche ai nostri telespettatori, da un lato ci metto la tattica e quindi Spalletti, le idee di Spalletti e le idee, la strategia che può adottare. Dall'altro lato il cuore e chi ce l'ha in questo caso, visto che non c'è Osimena, c'è Mertens e il cuore passa da lui. Neo Papà, felicissimo sicuramente per questo arrivo. Vuole dedicare il gol a Ciro Romeo. Ciro Romeo e quindi diciamo che ci sono le due contrapposizioni, testa e cuore un po' per rievocare quello che è insomma un po' anche legato a quello che è l'amore, l'amore che noi abbiamo per il Napoli. Però ti chiedo di rispondere fra un attimo, perché oggi pomeriggio è arrivata questa notizia che ha... Notizia scioccante. Scioccante, bravo, scioccante, che ha messo proprio quasi paura ai tifosi. Si pensa che oggi, intorno alle due o tre del pomeriggio, quando la notizia ormai è diventata a tambur battente, ricevuto messaggi, amici pure che mi chiamavano, ma che succede? Ci danno il 3 a 0 a tavolino, ci tolgono il punto, ci faranno male. Anche i colleghi mi hanno chiamato e detto vedrai, ci toglieranno da mezzo, ci toglieranno da mezzo dalla corsa scudente. Mi sono segnato tutti i colleghi, soprattutto. Allora, il procuratore federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico. Perché? Perché non hanno impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rachmano e Piotr Zelischi di partire da Napoli alla volta di Torino con l'aereo dello scorso 5 gennaio insieme al resto del gruppo e di partecipare alla partita del 6 gennaio tra Juventus e Napoli, anche se loro avevano come disposizione dall'Asno Napoli 2 Nord provvedimenti da adottare per la positività al Covid. Per fartela breve, insomma, loro hanno giocato, ti ricordi, dovevano giocare forse con la mascherina perché avevano avuto contatti con alcuni giocatori che non hanno risultati positivi. Il Napoli li fece scendere in campo perché se no si ricominciava la trafila dello 0-3 a tavolino che poi è successo in tante altre partite. Del Napoli quella volta però c'è andato a Torino, c'ha giocato, c'ha anche pareggiato e adesso sono stati deferiti il Presidente e canonico il medico sociale. Che succede adesso? Perché sono tutti preoccupati. Allora io mi affido alla tua grande esperienza per chiudere anche questa situazione perché molti di loro dicono no, succederà questo, succederà questo. Ti lascio la parola. Fammi fare una premessa. Certo. Perché è una mia osservazione per individuare ancora una volta la lunaticità del mondo del calcio e credo anche l'inosservanza delle regole in assoluto. Perché? Io vorrei che mi si spiegasse da parte di chi governa il calcio ma il Napoli quando non andò a Torino, ve lo ricordate? Come no? Che fu bloccato dall'ASL, ve lo ricordate? Non andò a Torino perché fu bloccato dall'ASL. Il Napoli fu pulito. Certo. Con la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. perché aveva seguito quella che era una prescrizione dell'ASL, cioè parliamo di una legge di rango superiore rispetto al diritto sportivo. E quindi il Napoli fu punito. Fu punito perché seguì la legge ordinaria. Come ti sei permesso tu di restare a Napoli, di non andare a giocare a Torino? Hai ascoltato l'ASL. E chi è l'ASL? Eh, bravo. Ti ricordo ancora le frasi di Andrea Agnelli subito dopo il triplice fischio dell'arbitro con quella esibizione farsa quando non ci fu il Napoli allo stadio. Andò davanti alla telecamera e ha la domanda ma lei cosa avrebbe fatto? Risposta, io sarei partito lo stesso. Lo stesso, sì, sì. Dichiarando avvertamente di violare la legge ordinaria. Brava. Ora, domanda. Ma il Napoli deve seguire la legge ordinaria o non la deve seguire? Perché quando l'ha seguito è stato punito perché l'ha seguito. Ma che non l'ha seguita la legge ordinaria secondo quello che dice la procura è stato punito un'altra volta. Eh no, ma fateci capire come bisogna comportarsi in costanza di Covid. Raffaele, poi puliscono sempre a noi. Non bisogna partire. Ma perché è ridicolo. La giustizia sportiva è qualcosa che va abolita, Francesco. Non è più possibile che società che fatturano centinaia di milioni di euro all'anno, società per azioni, qualcuna quotata anche in borsa, deve essere sottoposta al giudizio della giustizia sportiva. non va bene. Il calcio, ormai è arrivato il momento che venga affidato alla giustizia ordinaria. Ordinaria, bravo. Perché, ditemi, qualsiasi altra industria in Italia che ha un suo mondo giudiziario che sia diverso da quello del tribunale. Non ce n'è, solo il calcio. E allora, questa è la prima osservazione. Seconda cosa, vi prego, andate a dormire tranquilli, ma molto tranquilli, perché il Napoli non perderà la partita a Tavolini e non la perderà per due ragioni talmente evidenti che trovo assurdo che qualcuno abbia potuto pensare che il Napoli perdesse la gara a Tavolini. La prima, quella gara, il risultato di 1 a 1, è stata ratificata dal giudice sportivo. Assolutamente. Sancito. Sancito, bravo. Boom, firmato. Finito, 1 a 1. 2. La Juventus non ha mai proposto un ricorso per avere la vittoria a Tavolino in quella partita. È vero, è vero. Quindi questa è una leggenda popolare che purtroppo si diffonde di bocca in bocca e mi dispiace molto quando la bocca è quella di qualche collega o presunto tale, come tu hai detto in precedenza. De Laurentiis è stato sentito circa 20 giorni fa dalla Procura federale nella sua casa di Roma perché non volle andare lui in Procura per evitare il clamore mediatico. gli ispettori della Procura all'appuntamento era presente anche l'Avvocato Grassani che produsse tutto il carteggio nel quale si evinceva che l'ASL aveva poi consentito al Napoli di far giocare Rachmani Lobotka Esimischi. Bravo. Al termine del verbale il Napoli prima della firma scrisse si chiede l'archiviazione del caso. Eccola qua l'archiviazione. Deferite Aurelio De Laurentiis e Raffaele Canonico questo perché il Napoli aveva chiesto l'archiviazione su fatti talmente evidenti che purtroppo quando finiscono nelle mani sbagliate di presunti giudici o ispettori che chissà cosa altro fanno nella vita quando non vanno a bussare alle porte dei vari presidenti di calcio e questo è il risultato. Però state andando a dormire fatelo tranquillamente. Dopo, dopo la nostra diretta però. Dopo la nostra diretta. Questo è pleonastico Francesca che vanno a dormire adesso e che si perdono il meglio. Bravo, e che si perdono il meglio. Allora fatto questa giustissima chiarimento vogliamo chiamarlo chiarimento vogliamo chiamarlo attenzione a quello che erano le paure dei tifosi del Napoli è chiaro che qualcuno dice potrebbe esserci un punto di penalizzazione anche su quello. No, 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 no. Il fatto riguarda De Laurentiis e Canonico al massimo prendono una multa. Una multa loro. Bravissimo. Prendono una multa loro e così si chiuderà questo ragionamento. Allora l'Italia fuori dai mondiali non ce ne frega niente. Però tornano in signa e politano un po' così così questo lo vedremo. Un po' scocciato. Però allora tattica o cuore per battere l'Atalanta secondo te che cosa serve subito per battere l'Atalanta? Poi ne parleremo di tante altre cose parleremo che mancherà Usimen mancherà Di Lorenzo questi però sono temi che affronteremo volta per volta proprio per disegnare fino a fine puntata quella che sarà la formazione quindi dalla difesa al centrocampo e l'attacco però subito rispondendo a quello che è il sondaggio che abbiamo lanciato anche ai nostri telespettatori tattica quindi spalletti e avremo fra poco una bella schermata che abbiamo organizzato o cuore quindi i calciatori che devono scendere in campo ma chi lo dovrebbe mettere questo cuore in campo? Ma io penso Coulibaly io penso Anghissà io penso Fabian se giocherà io penso Dries Mertens e quindi poi ripartiamo dalla tattica sarà ancora 4-3-3 parliamo della tattica io non credo che sarà 4-3-3 lo sai qualche dubbio anche se i numerini quando c'è spalletti in panchina valgono poco perché il Napoli può giocare sia col 4-3-3 che col 4-2-3-1 nella stessa partita certo dipende se gioca o meno Cilinski a quel punto se gioca Cilinski sarà più 4-2-3-1 se non gioca Cilinski sarà più 4-3-3 anche perché Anghissà e Fabian Ruiz Anghissà oggi ha lavorato in gruppo sì assolutamente Fabian Ruiz aveva la febbre ieri ma oggi è stato in palestra oggi è stato in palestra quindi vuol dire che non è andato in campo perché c'era maltempo quindi per certo per evitare un fatto precauzionale cautelativo ma giocherà certamente e quindi se giocano Fabian e Anghissà gioca anche Lobotka però e quindi potrebbe essere a 3 potrebbe essere più a 3 se così sì se gioca Cilinski io credo che vada fuori Fabian va fuori Fabian secondo me e quindi Cilinski fa il sottopunta esatto e Cilinski fa il sottopunto oppure se Spalletti insisterà sulla formula con i tre centrocampisti di forza e di qualità allora Cilinski va in panchina e si gioca con 4-3-3 con 4-3-3 e quindi secondo te sarà Spalletti che lavorerà sull'Atalanta e quindi con la tattica oppure saranno i calciatori al di là del cuore poi possiamo usare qualsiasi altro termine però sarà l'estro di alcuni giocatori a dover decidere questa sfida cioè al di là di quello che è l'atteggiamento del Napoli bisognerà avere il miglior Mertens bisognerà avere il miglior bisogna avere i migliori tutti anche perché al di là della tattica della strategia e del cuore come tu sostieni partiamo da un dato se l'Atalanta non vince è difficile che possa pensare ancora alla Champions League eh quello sì allora tu vai a giocarti la partita contro una squadra che farà la guerra perché vuole vincere a tutti i costi altrimenti è tagliata fuori dalla corsa Champions vero è che quest'anno l'Atalanta in casa non ha fatto grandi risultati se non sbaglio è tredicesima nella classifica è vero anche loro in casa un po' come noi hanno balbettato sì però il Napoli in trasferta è una squadra che è seconda nella graduatoria quindi si affrontano due formazioni nei loro habitat migliore per il Napoli e peggiori per l'Atalanta eh sì e allora cominciamo con i nostri ospiti anche perché come al solito abbiamo tanti amici che ogni tanto ci vengono a trovare ci ritorna a trovare grazie a Massimiliano Esposito collegato ti ho visto a Napoli grazie a te sei passato in città ultimamente no ancora no no sei passato allora vecchie foto erano erano vecchie foto sono foto vecchie vengo giù per Pasqua vengo giù per Pasqua ok ok vieni quindi vieni dalle nostre parti allora ma scusami ma da dove è collegato da un bunker sì da un bunker vediamo di dopo vediamo di dopo l'altra volta avevi quella bella esposizione di foto di medaglie di coppe ma dove sei con questo muro bianco dietro eh no non sono lo studio occupato quindi sono lo studio occupato ok ma Massimiliano allora tattica o cuore per battere questa Atalanta ho lanciato questa sorta di sondaggio da un lato la tattica quindi le strategie di Spalletti dall'altro quello che può essere il cuore dei giocatori dei grandi combattenti di questo Napoli che saranno Pulibali che sarà speriamo Anghissalo Botka ma poi ci sarà Mertens visto che non c'è Osime spiega non lo sentiamo spiega non ti sentiamo aspetta un attimo vai 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 Max mi sentite adesso sì sì perfettamente ecco dicevo che secondo me ci vogliono entrambi le cose assolutamente ci vuole vuole la tattica perché comunque l'Atalanta è una squadra da rispettare e da affrontare in una certa maniera tatticamente parlando perché Gasperini ovviamente sa il fatto suo con il cuore perché è una partita comunque da da vincere se il Napoli vuole rimanere là vuole rimanere attaccato alla corsa a scudetto perché il Milan come avete visto ha un calendario sicuramente molto più facile almeno sulla carta e quindi se appunto Inter e soprattutto Napoli vogliono rimanere attaccati come dicevo alla corsa a scudetto sono partite queste da vincere assolutamente allora Raffaele vai una domanda tua pensi che il Milan abbia un calendario migliore del Napoli sei proprio sicuro io vedendo il calendario a confronto Max io vedo che il calendario migliore ce l'ha all'Inter ce l'ha all'Inter forse allora attenzione perché se l'Inter non dovesse perdere a Torino con la Juve anche un Parigio dopo ha il cammino tutto in discesa e allora io ho la sensazione che veramente ad oggi non c'è una squadra che può sentirsi un gradino in vantaggio rispetto all'altra solo se dovessero verificarsi dei risultati strani tipo che il Napoli perda a Bergamo con l'Atalanta il Milan che pareggi in casa col Bologna e la Juve che batte l'Inter amici miei la Juve è di nuovo in corsa per lo scudetto e state certi che lo vincerà la Juve a quel punto guardate perché perché ridi Francesco no no aglia ho detto non ho riso ho detto aglia ho paura lo sai è solo una grande paura credo che è un po' di tutti i tifosi del Napoli ma simile la classifica dice Milan 66 Napoli 63 Inter 60 Juventus 59 se il Milan pareggia va a 67 se il Napoli dovesse perdere va resta a 63 se l'Inter perde resta a 60 deve recuperare la partita e al massimo va a 63 la Juve se vince va a 62 e quindi amici miei attenzione Massimiliano sì no quello che dice Raffaele è sicuramente giusto io mi riferivo ovviamente alle prossime gare e non da qui a fine campionato poi sappiamo tutti che ovviamente le partite sulla carta sono una cosa e poi quando vengono giocate sono altre quindi anche la partita più semplice può diventare quella più difficile sicuramente quello che ha detto Raffaele poco fa è indiscutibile se la Juve dovesse vincere con l'Inter il Napoli non dovesse vincere con l'Atalanta e ovviamente si apre completamente un altro scenario un altro scenario però ecco è vero che l'Inter non sta attraversando un periodo brillantissimo però credo spero anche che andare a Torino e perdere io confido più in un pareggio ecco vedendo un po' anche le ultime prestazioni delle due squadre secondo me è più una partita da pareggio ma anche se fosse così il Napoli comunque non deve perdere a Bergamo allora un po' di problemi nei vari reparti per fortuna Fabian sembra recuperabile Angissà si è allenato quindi il centrocampo con l'Obotka con Fabian e con Angissà sembra fatta poi deciderà Spalletti se giocare col 4-3-3 o con il 4-2-3-1 quindi come diceva anche prima Raffaele la posizione poi sarà quella di Zelischi che deve eventualmente essere lui il sottopunta nel caso in cui si giocasse col 4-2-3-1 però in attacco manca lui e ci sono due esterni che si chiamano Insigne e Politano che in questo momento non stanno al top Lozano arriva venerdì sera questa è un po' la questione in attacco gioca Mertens è chiaro perché Petagna non recupera bisognerà trovare il cuore di Mertens e ritorniamo alla domanda iniziale ma sì sicuramente ci sono c'è la defezione sicuramente di di Ossimène che non è da poco c'è anche ovviamente l'assenza se non erro di Lorenzo che quella sì ti avrei fatto la domanda sulla difesa dopo vabbè allora resto sull'attacco resta sull'attacco poi torniamo in difesa rispondendo alla tua domanda io confido molto invece più che nel cuore di Mertens confido nel cuore di Insigne perché io credo che comunque prima di di lasciare Napoli voglia fare qualcosa di grande se non dovesse essere lo scudetto però almeno le prestazioni sicuramente le deve migliorare ecco io appunto confido proprio in questo quindi confidi molto in Insigne sì confido nel cuore di un Napoletano verace quindi poi ovviamente affiancando a quello di Mertens a quel punto là i due giocatori che lì davanti con la loro qualità possono sicuramente indirizzare la partita nei binali giusti torniamo in difesa noi abbiamo parlato di Di Lorenzo tante volte questo l'abbiamo anche noi abbiamo fatto una vignetta abbiamo detto Robocop Di Lorenzo però stavolta manca che ne pensi che poi lo chiedo anche a Raffaele ma Raffaele già ha una sua idea credo però l'abbiamo sentito anche un po' ieri nel pomeriggio però tu che ne pensi chi gioca? Io innanzitutto penso che è un'assenza importantissima oserei dire anche più di quella di Osimena perché comunque nella linea difensiva di Lorenzo è uno che comunque sa difendere sa spingere a diverse qualità importanti che nessuno secondo me tra Malqui e Zano li può ricoprire però ecco facendo a meno appunto di Di Lorenzo io credo che Spalletti punti su Malqui ma più che altro perché la partita è importante non si possono fare passi falsi e quindi buttare nella mischia un giovane per quanto possa essere bravo ed emergente però sono partite delicate dove ecco un errore di un giocatore inesperto magari ti può compromettere una gara importante Raffaele sei un ultimo una considerazione con Massimiliano sono d'accordo con Massimiliano io non conosco la condizione psicofisica di Zanori magari sta benissimo magari ha acquisito così tante esperienze e maturità da non temere questa partita da non temere il confronto con uno come Bogà che ti va via come il vento e allora gioca a Zanoli ma leggendo invece i numeri soltanto e vedendo gli avversari io sinceramente un ragazzo che non ha mai giocato titolare nel Napoli quella è la mia preoccupazione non lo metterei in una partita così importante ma non perché non mi fido di Zanoli ma perché la gara è sentita e l'Atalanta la giocherà con il coltello tra i denti quindi veramente il caso di metterlo in gioco se Spalletti lo farà vorrà dire che Zanoli ha una struttura psicofisica solidissima altrimenti non gioca per me vedendo anche la conformazione degli avversari io metterei sempre Tuan Zebe sul lato destro trattandosi comunque di un difensore centrale che ha giocato 14 volte a destra e 7 a sinistra con il Manchester United quindi vuol dire che quel ruolo lo sa fare e lo interpreta diversamente da Zanoli da Di Lorenzo o da Malqui ti può permettere anche di atteggiarti con la difesa 3 che contro l'Atalanta male non è perché comunque vai a fare l'uno contro uno che tra l'altro è la specialità della casa orobica assolutamente Massimiliano vuoi aggiungere qualcosa a quello che diceva Raffaele? No no Raffaele ha aggiunto a quello che avevo detto io cose giustissime sono d'accordo sul discorso di di mettere il difensore centrale a destra leggevo anche io in questi giorni appunto che ha giocato spesso anche se da difensore centrale ha giocato spesso a destra quindi potrebbe essere sicuramente un qualcosa su cui Spalletti potrebbe pensare o rischiarsela come diceva appunto poco fa Raffaele anche con i tre difensori centrali però quello secondo me è più un discorso di partita in corsa dove magari o stai perdendo quando stai pareggiando vuoi usare qualcosa in più e allora ti rischi la difesa a tre bene così allora grazie come al solito a Massimiliano Esposito quando vieni a Napoli ti venici a trovare faremo di tutto per incontrarti va bene ti saluto anche l'amico Diego e il collega Diego Marino grazie a Massimiliano Esposito saluto a tutti grazie per essere stato con noi ciao ciao grazie allora prima di andare in pubblicità ti leggo anche il report dell'Atalanta perché sono tornato di tutti i loro nazionali tranne Muriel che viene dal Sud America a parte credo rientrava oggi come Ospino a parte Toloi e niente insomma hanno recuperato tutti anche tutti come al solito Boga anche Malinoschi che insomma dovrebbe giocare insomma una probabile formazione poi questa lo capiremo già forse nelle prossime ore un 3-4-1-2 con Boga e Malinoschi quindi fuori Muriel questo secondo alcuni quotidiani fuori Muriel e l'uno chi è dietro alle due punti? Koopmeijers con Zappacosta Froiler Derun e Atemburg quindi un attacco senza punti di riferimento bravissimo questo ti volevo chiedere infatti in difesa Palomino De Miral e Jim City nei tre di difesa la novità sarebbe Koopmeijers diciamo da trequartista con Boga e Malinoschi Derun Froiler Zappacosta e Atemburg sui esteri poi è chiaro che ci sono comunque dei ballottaggi c'è anche Pessina che può giocare a posto anche proprio di Koopmeijers Atemburg a sinistra e Zappacosta a destra esatto con Atemburg in vantaggio su Pezzella e Koopmeijers come ti dicevo in leggero vantaggio su Pezzina anche se Atemburg gioca spesso a destra se non sbaglio no? Sì 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 no Atemburg a destra scusami e Zappacosta a sinistra questa è la posizione no il ballottaggio ti dicevo è tra Atemburg e Pezzella e Koopmeijers Pessina e Boga Muriel però per ora la stanno vincendo secondo insomma i giornali questa possibilità indisponibile Zapata perché si era parlato anche di questa possibilità ma diventava poi la miracolo diventava il passato per Lourdes per Lourdes esatto vabbè ti aspetti un attacco dell'Atalanta così oppure poi gioca Muriel secondo me alla fine gioca Muriel pur io sono di questa idea io credo che giochi Muriel punta centrale con Malinoski e Boga dietro ai suoi lati ai suoi lati va bene ne riparliamo dopo parliamo ecco di Osime ne parliamo di Di Lorenzo parliamo anche di portieri perché fra poco avremo un altro ospite allora fermi lì non vi muovete pubblicità eccoci tornati eccoci tornati allora tantissimi amici collegati alla nostra diretta Facebook ci salutano da Torino da Milano da Genova ricambia affettuosamente tutti allora volevo chiedere secondo voi che partita sarà invece tra Juve e Inter scrive Dario e lo dicevamo prima forse al Napoli serve un pari o addirittura la vittoria ma forse il pareggio il pareggio è il miglior risultato che aiuta il Napoli a pensare ancora in grande allora Giuseppe Raiano io spero nel miglior Mertens e lui la carta vincente cosa ne pensate un saluto da Monza Giuseppe Raiano salutava anche il nostro Max che ci ha salutato poco pochi minuti fa che ne pensi Mertens può essere la carta vincente come sta secondo te Mertens riesce a tenerli 90 minuti perché poi la domanda riesce a tenerli bisogna capire come li tiene ecco bravo dovrà tenerli li tiene poi bisogna capire quale incidenza può avere in questi 90 minuti io credo che l'Atalanta sia uno degli avversari peggiori per il Mertens attuale spero non lo lasci non solo ecco perché quello è importante auspico la presenza di Zelinski alle sue spalle almeno ha un aiuto però io non farei mai a meno in questa partita di Lozano di Lozano ecco lo dicevamo anche ieri perché è l'unica arma a tua disposizione per spaccare la partita e per costringere l'Atalanta ad arretrare e a inseguire un avversario abile anche a sgusciare nell'uno contro uno se tu rinunci a Lozano e hai un attacco con Politano Mertens e Insigne lo vedo un po' leggerino contro l'Atalanta perché l'Atalanta è energia allo stato puro bravo e soprattutto tende al duello esasperato cosa che il Napoli non sa fare quindi ripeto mi auguro che Lozano giochi dal primo minuto anche se c'ha soltanto poche ore di jet lag smaltito ma chi se ne frega io a 26 anni il jet lag lo smaltivo sai quanto in mezz'ora bevo una Coca Cola e via bravo allora Mariano io penso che con l'Atalanta sia una partita difficilissima visto le assenze ci vuole tattica e questo aspetta Spalletti ma tanto cuore e quello lo devono buttare oltre all'ostacolo i nostri giocatori Pasquale Palma ti saluta Edoardo poi ci lamentiamo che non facciamo giocare i giovani e le partite ideali per testare le qualità del giovane Zanoli ecco qua la nazionale ritorniamo sui giovani quando si esaspera il concetto io vado in bestia cioè ma proprio in questa partita dobbiamo fare questa politica di lanciare i giovani ma io non lo so cioè proprio questa partita qua ma poi mi domando una cosa di Lorenzo che credo che sia il calciatore non so se lo è ancora ma credo di sì calciatore di movimento che in serie ha giocato più minuti tutti abbiamo la schermata di Robocop il nostro Robocop calciatore di movimento che in serie ha giocato più di tutti tutti mi domando una cosa eccolo qua guardalo guardalo il nostro Robocop guardalo la mia domanda è ma se questo Zanoli è pronto e bisogna lanciare i giovani come dite voi ma ogni tanto non lo poteva fare un match al posto di Di Lorenzo perché non lo hanno no mannaggia no mannaggia dico perché Spalletti non è che è pazzo che fa giocare Di Lorenzo ah tu dici non era pronto ma secondo me lo vede ancora così ancora troppo se no qualche partitina un po' più fessacchiotta Zanoli poteva essere utilizzato al posto di Di Lorenzo o no ma proprio contro l'Atalanta deve giocare di Isolari questo è uno dei grossi dei grossi problemi io non è che dico che non deve giocare no 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 ma esasperare il concetto in base al quale bisogna per forza far giocare i giovani io non l'accetto allora andiamo avanti con ancora tanti messaggi che ci arrivano domenica c'è un tifoso penso dell'Atalanta che dice domenica giochiamo senza giocatori perché giovedì abbiamo l'Europa League ma hanno l'Europa League non credo non ancora non ancora vabbè contro l'Ips è vero metteranno le riserve non lo so ci seguono anche i tifosi dell'Atalanta ci fa piacere ci fa piacere anche di questo allora noi fra poco avremo un altro ospite e parleremo un po' di portieri bravo c'è un amico che ci chiede che ne pensi di massa quarto uomo nella partita gli arbitri lo so però non dovranno essere puniti questi qua Guida va a fare sarà stato va a fare una partita come quarto uomo dopo due giornate molti hanno paura dell'arbitro comunque della partita vabbè insomma speriamo di no che il signor Di Bello Di Bello sì e l'arbitro di Juve Inter chi è? oddio in Rati e c'è Mazzoleni al bar quello te lo ricordo per caso hai fatto il calcolo di quante volte Mazzoleni è stato al bar della Juve ho perso no lo devi fare ho perso il calcolo lo devi fare nove volte nove volte allora per battere l'Atalanta ci vuole tanta sapienza di spalletti da parte dei calciatori parte la bravura ci vuole tanta cazzima ma soprattutto deve essere l'arbitro all'altezza perché Atalanta Napoli non si gioca a calcio ma a calci cosa ne pensa Raffaele? non è che si gioca a calci si gioca con un calcio molto più energico di quello a noi consono perciò il Napoli terrà botta io auguro di sì perché tante volte nelle partite complicate vedi per esempio Juve-Napoli del 6 gennaio il Napoli fece una partita di grande orgoglio e dimostrò di avere una tenuta tecnico nervosa superiore a quelle che sono anche le nostre quotidiane aspettative sulla squadra ok allora grande Raffaele da Antonio Di Matteo che dice penso però ci voglia anche un po' di buona sorte e tanto cuore per questi ragazzi la tattica non serve ci vuole il cuore l'ostacolo da superare con sudore e grinta scrive Francesco da Calvizzano Gino Dabacoli buona serata Francesco un saluto ad Auriemma per battere l'Atalanta tattica cuore ma bisogna scendere in campo con il coltello tra i denti lottare fino all'ultimo minuto senza mollare mai è questo l'abbiamo detto Carlo tutte e due serviranno sicuramente con la tattica e l'aggressività in certe situazioni tattica cuore io aggiungerei agonismo scrive Rodolfo Pecoraro tanto agonismo e cattiveria due cose per quanto riguarda la formazione se proprio deve giocare Lozano se riesce a recuperare al posto di Insigne Politano però lo lascerei in campo a destra Tuanzebe che è bravo e forte fisicamente potrebbe giocare lui ho avuto di vederlo mi sembra interessante è vero che ha sbagliato alcune cose con la Fiorentina che poi hanno compromesso il resto della gara ma il ragazzo è di livello assoluto Tuanzebe ma Tuanzebe è un giocatore che giocava nel Manchester United Francesco poi è l'Alasso Villa voglio dire non è uno scarso anzi è uno è uno che è arrivato a Napoli purtroppo ha avuto questo infortunio una lombalgia che lo ha stremato adesso sembra stia bene se sta bene Tuanzebe è un ottimo elemento e può fare proprio al caso di questa partita assolutamente allora tantissimi ancora i messaggi anche sulla nostra diretta Facebook Salvatore Toscano ci vuole un Napoli aggressivo anche se secondo voi come sta Raffaele ha recuperato si è allenato per intero oggi con il gruppo e quindi vuol dire che sta bene fino a ieri il Napoli aveva preferito tenerlo un po' in campo un po' in palestra proprio per non stressarlo troppo nella previsione di queste ultime otto gare che saranno altrettante battaglie allora Tattica invece scrive Antonio dal Vomero siamo più forti lì come la giocherà Casperini? Proverà come al solito a dare fastidio tra le linee ecco perché l'idea di Bop lavora sempre sulle soglie di rendimento arriva sempre al limite e poi è uno stratega di primordine io non ho capito bene sugli esterni chi deciderà di far giocare Ateberre Zappacosta Pezzella non lo so Mele c'è anche Mele ce ne sono di alternative loro ce ne hanno di alternative e voi sapete che l'Atalanta è lì che fa la differenza sugli esterni ecco perché sarà importante avere un Napoli reattivo con la gamba molto molto elastica altrimenti se vuoi fare troppi fraseggi e vuoi edulcorare il tuo pallone con delle giocate di fino senza mai essere incisivo è difficile che tu possa vincere questa partita e allora sì forse abbiamo un problema con il collegamento con il primo ospite facciamo un cambio con l'altro ospite così non lo facciamo tanto attendere grazie Deco Marino in regia che mi supporta allora Luigi da Portici domenica il Napoli lascerà per lui l'obiettivo scudetto perché Osimene Rachmani e Di Lorenzo sono tre importantissime assenze e questo non aiuterà il Napoli ecco ritornando a quel discorso abbiamo fatto anche nelle scorse settimane il jolly il Napoli può permettersi di non vincere a Bergamo e provarci ancora perché poi il Napoli lo abbiamo sempre detto no Raffaele il Napoli deve arrivare tra le prime quattro l'obiettivo stagionale era questo poi l'appiedito viene mangiando ci stiamo divertendo a chi non fa piacere che il Napoli sta là forse qualche errore di troppo l'abbiamo fatto però ci siamo ancora e c'è ancora margine il Napoli ha sommato quattro sconfitte in casa che sono troppe per una squadra che vuole vincere lo scudetto ha perso solo una volta fuori a Milano contro l'Inter tu parli del jolly ma il jolly lo puoi spendere lì dove anche gli altri hanno un rallentamento perché se tu pareggi il Milan vince l'Inter non perde a quel punto immagino che la corsa scudetto o meglio che l'obiettivo scudetto possa diventare molto meno percorribile ma se invece tu non vinci il Milan non vince l'Inter non vince la situazione cambia poco ci sono altre sette partite vuol dire che ci sono ancora tanti punti a disposizione 21 e quindi perché non dovresti ancora pensare allo scudetto allora facciamo una cosa apriamo un po' le linee 5067764 ho tanti messaggi ancora però facciamo qualche telefonata poi avremo ancora degli ospiti da poter fare si collegheranno fra pochissimo con noi c'è Sergio D'Aischia che dice ti dico semplicemente il mio pensiero quando l'abilità col bip cool non possiamo dire cool contrasta vince il cool l'abilità non basta ha fatto anche la rima è vero servirà un po' di tutto visto che il termine lo abbiamo sdoganato è meglio avere più culo che cervello ecco in questo caso questa è una delle possibilità assolutamente allora visto sì abbiamo allora abbiamo una telefonata pronto pronto Francesco ti sentiamo un po' maluccio ti sentiamo un po' maluccio chi è? no ma non è ascoltabile devi riprovare pronto? pronto no non riusciamo a sentire dai adesso la sentiamo pronto pronto si sente bassissimo ecco ti eccco ti eccco ti peppe sei tu? sì io ti sento bassissimo vai vai peppe parla tu fai una domanda a Raffaele se vuoi sì allora Raffaele le domande sono due una vorrei sapere come sta Fabian Neserischi e un'altra e ieri intervistandoti tu dicessi che poteva giocare anche in signe perché li piegava e dava una mano al centro campo ma se in signe di pico chi attacca Raffaele peppe grazie grazie per la tua telefonata grazie allora due domande in una una sulle conazioni di Gielischi e Fabian secondo me stanno bene tutti e due dai anche Gielischi oggi è tornato e ha fatto scarico insieme agli altri che sono tornati allora se uno non sta bene ha un problema sotto al gluteo dice che sei stato un po' secondo me lui ha sentito questo dolorino e si è fermato e bene ha fatto così da non compromettere beh sì se no rischiava veramente di farsi male per quanto riguarda in signe io farei giocare Lozano destra e in signe a sinistra perché sa anche ripiegare Peppe non è che sa solo ripiegare in signe è uno che se trova il varco giusto qualche gollo si certo oggi è un dinamismo ridotto rispetto al passato però io in una gara come quella contro l'Atalanta lo preferisco che stia lì a contrastare a Teber Zappacosta chiunque dovesse giocare sul suo lato e poi a centrarsi per cercare come faceva ai tempi di Sarri il lancio a scavalcare la difesa per il calciatore che accorre da destra nel caso specifico io farei giocare Lozano quindi in signe Lozano e Lozano ok allora proviamo ancora il telefono pronto 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 arriva vediamo pronto saluto sì chi è sono Jenny qui Jenny vai domanda veloce che ho proprio un ospite vai se mi alzate un po' l'audio perché vi senti si alziamo un po' l'audio vai vai niente la domanda prima di fare la domanda a Raffaele volevo fare una considerazione volevo chiedergli a lui cosa ne pensa già lo so che tu mi dirai adesso vabbè ma gli diamo spazio a questi personaggi però purtroppo sono schifato di sempre ogni volta questi personaggi che si devono fare la pubblicità infancandoci offendendo Napoli mi riferivo a quel domino di Pavia quella specie di consigliere consigliere comunale di Pavia sicuramente hai letto Raffaele anche a me Raffaele Raffaele è stato come dire chiaro se ne parliamo gli diamo solo spazio a questi signori lo so tu mi insegni e vedremo poi domenica alle 15 io ti dico una cosa perché io vivo all'ambiente lì di Bergamo ci stanno aspettando la partita della vita e poi vedremo domenica a me mi dispiace che il Napoli ha parecchie defezioni però quando c'è mancato molti elementi al Napoli hanno cacciato fuori la gara e spero che sia così perché domenica da quel catino per non farmi dire altro si innalzeranno i soliti cori peceri e vedremo di tutto si vedrà di tutto Raffaele lo sa perché è stato spesso fuori in Viling prima si chiamava Atleti Azzurri d'Italia ora Gavis sa come è quel campo sa l'atmosfera qual è sa che quando affrontano il Napoli come loro due squadre affrontano che tirano la cazzimma fanno la partita della vita la Roma e il Napoli e ti assicuro che stanno aspettando questa partita con noi per fare la Champions ma lo sai a Bergamo così come a Verona è così Geni ti prego c'ho un ospite in attesa quindi ti chiedo velocemente una domanda perché mi fa piacere che la fai la domanda è la seguente il Napoli pecca sugli esterni quest'anno è venuto meno sugli esterni offensivi e nonno con Politano in figne che hanno fatto solo un gol su azione mentre viceversa come diceva Raffaele l'Atalanta è il punto forza di forza proprio sono gli esterni però attenzione che loro mandano in gol chiunque sono una squadra molto aggressiva anche a centrocampo si palleggiano molto bene mandano in gol e la squadra seconda o terza d'Europa prima in Italia che hanno mandato in rete tutti 18 elementi vi saluto vi abbraccio grazie 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 Raffaele sugli esterni insomma abbiamo detto perciò ho detto speriamo che giochi Lozzano perché almeno ricordatevi la trasferta di Bologna Lozzano ha segnato due gol è stato decisivo speriamo speriamo in Lozzano speriamo in Lozzano con Nicola Mora collegato eccolo lo ringraziamo come al solito bello come al solito la tua tuta della scuola calcio eccola là scuola calcio buonasera Massimo Perna Massimo Perna allora buonasera buonasera grazie di essere con noi e allora Nicola l'Atalanta è alle porte finalmente si ritorna a giocare dopo la pausa per le nazionali tattica da un cuore per battere quest'Atalanta questo è il sondaggio che abbiamo lanciato questa sera ma penso che proprio in questa partita servano entrambe le cose perché l'Atalanta forse è la squadra più antipatica da affrontare non è nella sua migliore condizione fisica però rimane una squadra che è molto fisica che gioca uomo a tutto campo e quindi sicuramente andarla a affrontare diventa veramente difficile in Napoli oltretutto che non è una squadra che a livello fisico diciamo non accetta ben volentieri lo scontro fisico ma predilige il palleggio predilige il fraseggio con grande qualità che ha nei suoi interpreti quindi ripeto è una gara che andrà preparata in maniera molto accurata e molto delicata perché servirà come dicevi tu entrambe le cose la grandissima qualità che il Napoli potrà mettere in campo abbinata comunque a una dose di fisicità perché con l'Atalanta se vai solamente sul palleggio andrai sicuramente in difficoltà ci serve anche la forza e la voglia di andare a attaccare gli spazi andare a volergli far male essendo consapevoli che l'Atalanta ha una grandissima forza nella ripartenza giocatori che fanno paura soprattutto sugli esterni e davanti quindi bravo insomma a volte ci concede anche tanto campo per poterlo attaccare perché poi sa benissimo che ha delle armi temibili in contropiedi diciamo che non siamo anche nel momento migliore assenze importantissime oltre a Rachmanio Osimene mi riferisco anche a Di Lorenzo che è un giocatore che dà un enorme equilibrio a questa squadra quindi ripeto però Napoli non può piangersi addosso in questo momento delicato mancano otto partite decisive bisogna assolutamente vedere il bicchiere mezzo pieno e non piangersi addosso prima del tempo del bicchiere mezzo vuoto Raffaele che una domanda per Nicola Mora sì l'osservazione che voglio fare Nicola è che quando mancano otto turni alla fine e ci sono tre barra quattro squadre in lotta per lo scudetto io credo ma non ho giocato a calcio ai tuoi livelli quindi non lo posso sapere io credo che la componente nervosa sia praticamente tutto perché lì dove hai qualche carenza con l'agonismo la superi e fai in modo che l'avversario non se ne accorga io non so se il Napoli è dotato di tutto questo ed è la mia unica perplessità non so cosa ne pensi è una riflessione giustissima tante volte abbiamo visto il Napoli avere sulla carta delle qualità importanti superiori e poi venire meno al risultato finale proprio perché come dicevi tu poi un conto essere seduti e giudicare l'operato degli altri in conto è scendere in campo e avere la pressione di dover vincere per forza per rimanere in lotta nel campionato il Napoli quest'anno ha avuto secondo me più di un'occasione per poter dare una svolta importante al campionato mi riferisco alla partita con l'Inter dove stava gestendo in maniera importante il vantaggio e invece di andare a chiudere la partita mi riferisco col Milan in casa dove con una squadra di pari livello aveva la possibilità di fare qualcosa di più e ha accettato magari di accontentarsi del pareggio pur di rimanere in scia io credo che una grande squadra in certi momenti debba prendersi la responsabilità e diciamo di dover fare la partita e dover dare una dimostrazione forte al campionato e alle pretendenti che tu ci sei e ci vuoi essere e per fare questo hai bisogno di grandissimi valori al di là che i tecnici che tutti riconosciamo alla rosa intera del Napoli ma anche a manche morali di leadership dei giocatori stessi il Napoli in questo è un po' carente perché ripeto manca di giocatori top player manca di giocatori carismaticamente capaci di trascinare tutti gli altri solo forse Osimè ma Osimè non c'è il suo potere fisico e per il suo per la sua volontà di voler strafare di andare oltre per le proprie qualità fisiche però ripeto manca un giocatore abituato a vincere e abituato a gestire momenti particolari faccio un riferimento per rispondere a Raffaele credo che sia logico nel momento in cui tu stai vincendo una partita in casa come l'ultima non puoi perdere Osimè anche per quell'errore della seconda ammunizione perché il Napoli dopo il 2-1 era riuscito a ribaltare una partita ha preso due ammunizioni quella di Rachmani che ci poteva stare ma quella di Osimè nasce da una cattiva gestione del pallone e riconsegnata la palla agli avversari che ti attaccano beh quelle sono le classiche diciamo situazioni dove una squadra è capace di congelare sia il risultato sia la gestione dei cartellini sia la gestione degli infortuni e quindi quello poi va a ricadere sulle parti successive credo che Osimè peserà moltissimo più in questa partita che magari se avesse saltato quella post-Atalanta mi piace pensare che Napoli abbia la voglia e la volontà in tutti i suoi giocatori sia quelli rientrati dalla delusione della nazionale italiana sia da quelli che sono rimasti a Castelvolturno per lavorare di dare un segnale forte di continuare questa rincorsa perché mai più come questo Napoli possa avere la possibilità di lottarsi il campionato fino all'ultimo giornale assolutamente d'accordo tutto condivisibile tutto condivisibile è inutile ritornare sul discorso dell'esterno abbiamo capito che potrebbe giocare Zanoli Raffaele punta sotto Anzebe che potrebbe essere una scelta io ho spiegato sì l'hai spiegato punti nel senso sì sì no 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 hai spiegato hai spiegato bene il perché è chiaro che là Spalletti dovrà non dico lanciare la moneta ma avere lui la grande scelta avendoli visti in questa settimana e a vederli ancora domani credo prima della partenza poi di sabato credo che domani e sabato lui poi come dire dovrà scegliere dovrà far portarsi consiglio dalla notte caso mai sabato notte ci pensa e domenica mattina gli dà la maglia no Nicola ma è l'unico pensiero che Spalletti non ha avuto per tutto il campionato perché quando ci arriva di Lorenzo di Lorenzo è titolare rimovibile gioca sempre tutti i 90 minuti quindi è un pensiero di me e questo è il problema Nicola oggi se Zanoli è un calciatore pronto qualche partita al posto di di Lorenzo la poteva pure giocare no ma io ho sentito prima che mi chiamaste vi seguivo in diretta quindi ho sentito lo so che ci segui sempre grazie ho sentito la considerazione di Raffaele ed è diciamo condivisibile nel senso che prima di lanciare un giovane in una partita così importante sicuramente se hai altre alternative vedi Tuanzebe vedi Malquit sicuramente un allenatore esperto come Spalletti due domande se le fa io credo invece che non me ne voglia sono pareri diversi quindi solo dopo la partita sapremo diciamo se Spalletti avrà fatto la scelta giusta o sbagliata io credo che ci sono dei momenti storici dove il divino ti lancia dei segnali Zanoli è stato un giocatore fortemente voluto da Spalletti che rimanesse nelle fie del Napoli è cresciuto tanto allenarsi con i grandi campioni è successo anche a me nel grande Parma con i grandi campioni del calibro di Cannavaro Turam Dino Baggio Buffon Chiesa Crespo ne dimentico sicuramente qualcuno poi esordì nella partita sciagurata a Pasqua dove Napoli retrocedette con l'abbraccio di Cannavaro e taglia la tela e tu eri in campo in quella partita o mi sbaglio io ero in campo e Ancellotti mi disse è la tua prima partita gioca e divertiti e io feci una grandissima partita diciamo che Napoli sicuramente all'epoca non era un Napoli eccesso però ripeto questo non toglieva che la mia prestazione fu una prestazione positiva tanto che l'allora direttore Giuliano poi mi prese l'anno dopo a Napoli in Serie B e ho cominciato la mia storia d'amore con il Napoli e quindi penso e voglio credere che anche Zanoli possa ancora di più essere d'aspicio questa partita dove possa esordire dal primo minuto fare una grandissima prestazione Napoli possa vincere in un campo difficile come Bergamo e che Zanoli possa dire sono rimasto in una squadra vittoriosa e la mia prima partita l'ho fatta in una gara decisiva che poi si potrà rivelare decisiva alla lunga per la vittoria del campionato questo è il mio auspicio che faccio a Zanoli persona ragazza giocatore e a Napoli mi auguro che non ce l'auguriamo non ce l'auguriamo gli undici migliori per vincere la partita perché Napoli deve e può assolutamente vincere la partita non ce l'auguriamo Nicola prima di salutarti Coulibaly lì dal lato di Zanoli o di Zanoli come lo volete chiamare e Juan Jesus di là potrebbe essere questa diciamo aiutare il ragazzo ma anche Toan Zebe con Coulibaly centro-destra e Juan Jesus centro-sinistra che si trova anche meglio sì sicuramente Juan Jesus ha giocato sempre insieme a Rachmani con l'assenza di Coulibaly centro-sinistra quindi Coulibaly diciamo che dove lo metti lo metti per strapotere fisico non credo che faccia grande differenza quindi sì sicuramente se dovessi scegliere al di là che dovessi scegliere Zanoli o Toan Zebe credo che questa sia la scelta che porterà Spalletti quindi Coulibaly centro-destra Juan Jesus a sinistra e Mario Rui a sinistra credo che sia questa ormai la formazione fatta grazie grazie come al solito a Nicola Mora alla prossima ciao Nicola grazie a voi un saluto sempre Forza Napoli ciao sempre allora noi corriamo in pubblicità poi spero di fare questo collegamento anche per parlare di portieri sofferto per parlare di portieri poi facciamo ancora qualche telefonata tanti messaggi li leggiamo fate ancora domande sulla nostra diretta e al nostro 342 38 12 922 pubblicità e torniamo eccoci tornati Club Napoli Night con Raffaele Auriemma e con un ospite che abbiamo subito collegato lo ringraziamo per essere con noi ci siamo riusciti lo vediamo anche Salvatore Soviero ciao Salvatore grazie di essere con noi buonasera buonasera a tutti grazie con me Raffaele Auriemma e allora chiedo ecco alla regia di aiutarci che c'è un po' di rimbombo e allora Salvatore il Napoli domenica contro l'Atalanta c'è da fare una grande partita per provare a vincere in trasferta contro la formazione di Gasperini secondo te servirà più la tattica e quindi le strategie di Spalletti o ci vorrà tanto cuore di questa squadra con Mertens che dovrà sostituire Osimeni ci vuole tanto cuore anche tanto C voglio dire non bisogna l'Atalanta è il momento che sta bene averla preso incontrata un mese fa un esito sarebbe stato sicuramente scontato il Napoli però è in forma è motivato ha voglia di consolidare comunque di essere l'antagonista del Milan e secondo me se fa un ottimo risultato a Bergamo può cominciare seriamente a pensare di agganciare il Milan quindi si credi è un croceria no io veramente l'ho detto in ritiro che il Napoli al completo è una squadra che dice la sua fine alla fine ha avuto qualche defaianza in casa obiettivamente è stato così dove vedi le squadre medio-basse dove quelle che corrono hanno praticamente fanno la settimana tipo perché a parità di corsa il Napoli dice la sua su tutte le squadre però dove tu hai una condizione fisica non ottimale incontri quelle squadre che fanno la settimana tipo e ti mettono in difficoltà con un po' di fortuna perché sì certo Raffaele ce l'hai una domanda per Salvatore ma certamente che ce l'ho riguardo ovviamente i portieri del Napoli perché da quello che ho capito il Napoli l'anno prossimo insisterà anzi opterà per Meret e credo che Ospina sarà lasciato al suo destino che sarà comunque un destino luminoso perché è uno dei migliori calciatori portieri al mondo e di offerte ce ne sono già tu faresti la stessa cosa Salvatore punteresti tutto su Meret no guarda il fatto di dover togliere un problema da un altro portiere ti nota che non abbia grossa personalità e quindi è sfiduciato già in partenza voglio dire togliergli il problema ma il Napoli ha bisogno di due portiere noti uno perché il Napoli gioca su tre fronti cioè hai sempre bisogno di un altro portiere o prendi un portiere ma qualsiasi altro portiere prenderà dove abbia personalità più personalità gioca sempre chi ha più personalità il calcio è fatto più di personalità che poi di qualità Ospina non è un mostro di portiere però ha quella personalità da infondere sicurezza agli altri e vedi che poi dopo alla fine viene sempre primato con con la titolarità cioè voglio dire da essere lui il titolare però togliere il problema di fondo a a Meret sicuramente non gli gioverà perché alla prima occasione poi sarà un'arma a doppio taglio perché poi non avrà più alibi non ha più attenuanti poi un portiere da quello che vedo dalle statistiche io non parlo di qualità tecniche lungi da me discutere sulle qualità tecniche però che un portiere che ha anche i suoi problemi fisici durante l'anno troppi e qualche infortunio in più ora sarà il caso voglio dire che capita una volta ti fa male il pulso una volta sarà anche il caso però comunque sempre 5-6-7 partite 10 partite non le gioca per infortunio e quindi tu hai bisogno di un portiere ma non è che ti giochi la media classifica tu giochi sempre ai vertici devi avere due portieri per forza secondo me secondo il mio parere ma ti seguiamo il fatto di togliere un problema già di partenza dovrebbe essere l'anno della consagrazione però poi può essere pure un anno che poi ti ricorrere ai ripari ma che cosa si potrebbe fare secondo te cioè caso mai invece cambiare strategia dare cedere o dare in prestito il calciatore io farei questo voglio dire solo una cosa non perdere io spina sinceramente io non lo perderei io dico mio padre i vecchi dicono io non mi preoccupo che perdi ma che ti vuoi rifare voglio dire se uno ha fatto una spesa per voler a tutti i costi recuperare recuperare la spesa perché parliamo di un portiere che aveva fatto che costava 30 milioni più o meno voglio dire se tu vuoi poi recuperare i 30 milioni rischi che poi ti trovi niente in mano obiettivamente opporti di ti recuperare perché poi una volta che noi parliamo sempre per il peggio perché poi alla fine maturerà farà un grande campionato e ci smettirà tutti voglio dire speriamo però io parlo con i fatti no voglio dire io parlo con i fatti cioè alla fine non è che abbia la sicurezza di essere un titolare a tutti gli effetti perché se ogni volta che arriva Ospina e rientra sempre Ospina voglio dire un motivo ci sarà io una domanda me la farei se con tre allenatori gioca sempre lo stesso portiere voglio dire non saranno mica tutti gli allenatori gli altri e quelli che allenano saranno somari voglio dire qualche cosa ci capiranno più degli altri secondo me poi sai Meret ha un difetto che proprio Soviero non aveva ah io infatti volevo arrivare Meret non parla non parla Soviero parlava come se parlava ecco guidare la difesa la tranquillità forse anche nel dialogo tra Coulibaly Ospina Rachmani che si è inserito bene Mario Rui cioè vedo che con Ospina sembra che tutti sono un po' più coinvolti una volta essere introversi pagava voglio dire poi di introverso come portiere c'è stato solo Zoff Zoff che poteva anche non dire niente però Zoff non me lo ricordo è un portiere che non parlasse voglio dire quando parlava si faceva sentire il fatto di non avere il no il rispetto non avere in pugno la difesa e poi alla minima occasione poi di far crollare tutto il palazzo voglio dire c'è poco da da aggiungere eh sì c'è poco da da dire le cose la verità è questa se va bene è bene per lui che si deve riconfermare perché fino adesso ha fatto quant'è che questo che hanno è il terzo anno o quarto terzo anno terzo anno terzo anno un terzo anno un portiere giovane pagato 30 milioni che non si conferma cioè titolare tu quanti anni potrai aspettarlo cioè il fatto di lui volerà spina perché in ritiro si fece male si fece male veretto quindi il Napoli si è fatto male ma anche quest'anno Salvatore il Napoli Spalletti aveva puntato su di lui bravo alla seconda partita si è già infortunato è chiaro che se tu metti in campo spina poi dopo non lo togli più è chiaro ma perché poi alla fine parlano di risultati ma anche tu puoi toglierlo è sempre un arba a doppio taglio perché se tu togli un titolare cioè per infortuni fai giocare l'altro e l'altro gioca bene lo ritogli poi ti togli quella sicurezza di aver conquistato qualcosa e poi alla fine ti ritrovi senza i due portieri voglio dire ma qua stiamo parlando di livelli importanti non stiamo parlando di portieri di di palazzo voglio dire però no voglio dire però questa secondo me è una scelta secondo me l'unica scelta del Napoli che non non abbia condiviso o quantomeno non mi trovo con quel pensiero voglio dire ultima domanda su Mertens invece passiamo dalla difesa all'attacco ci sarà lui contro l'Atalanta non c'è Osemen vedremo chi sceglierà Spalletti al suo fianco se ci sarà Lozano se ci sarà Politano se ci sarà Insigne uno di questi tre potrebbe rimarrà fuori però è Mertens che adesso deve portare l'attacco del Napoli verso la vittoria che cosa ti aspetti da questo ragazzo che ci tiene tanto per la maglia del Napoli ma come ci tengono tanti altri come Insigne come poi la società che fa le scelte però vedi prima di di dirti sulle caratteristiche di di Mertens però voglio dire quando un calciatore va perché una società non lo prende è mercenario perché giustamente quando non lo vuole uno è costretto a firmare per un'altra parte ma a seconda si fa sempre una questione di soldi Mertens comunque ha fatto una carriera a Napoli però voglio dire ai tifosi io non vedo cortei per Mertens fuori alla sede per farlo rimanere a Napoli quindi quando un giocatore non serve più non serve anche ai tifosi quindi quando un giocatore fa una scelta di una carriera ma Salvatore ha ragione questa è io adoro le persone come lui perché dicono le cose come no quello che pensa lui dice le cose come stanno come stanno a volte quello che si pensa è sbagliato lui dice proprio le cose per come fare i ragionamenti io dico Del Piero io parlo di Del Piero non sono Juventino però Del Piero ha battuto tutti i record alla Juve ha detto io faccio due anni di contratto la Juve ha detto dall'anno prossimo Del Piero non farà parte della squadra io non ho visto queste processioni di cui tutti questi tifosi moralisti a mettere pressione alla società perché volevano del Piero si diceva vabbè ha finito la carriera se le vado dai maroi è la stessa cosa eh no ma è così è la stessa cosa è di insignia la società non lo vuole è ovvio che va dalla parte dove gli danno di più poi poiché lui sceglie questa cosa è un mercenario allora raga diciamoci la verità la stragrande maggioranza dei tifosi sono invidiosi dei calciatori che facendo una cosa una cosa voglio dire ma voi che fate non fate niente ok non vanno niente i calciatori però alla fine i giudizi sprezzanti sono fatti per la gente invidiosa e quindi bisogna avere rispetto dei calciatori perché una cosa la voglio dire io dai 16 anni ai 38 anni che ho smesso non mi ricordo un'estate io la prima estate l'ho fatta a 39 quando dicevo vabbè non ero uno dei grandi c'è tutti questi miliardi però ho sacrificato dai 16 ai 38 sono 21 anni della mia giovinezza non mi ricordo un'estate che ho fatto con la mia famiglia con i miei amici quindi è il gioco più bello del mondo i calciatori guadagneranno un sacco di soldi si devono prendere anche gli insulti quando sono giusti no? quando sono così giusto per però te la faccio la domanda tu tratterresti Mertens vai pure tu sotto la sede ma Mertens ha una qualità fuori dal comune è ovvio che se uno non gioca sempre puoi incappare e dici devi prendere la condizione la condizione si prende giocando non è facile sempre entrare e fare bene però lui ha tutte le caratteristiche per fare la differenza come Osimène in dei frangenti anche più di Osimène secondo me perché ha delle qualità tecniche superiori alla media dei giocatori in Italia parliamo di in Italia secondo me si è vero quello che dice Salvatore però forse l'altro è devastante no l'altro è devastante lo so però il mio voleva essere una cosa per il coraggio ve lo dico stasera Osimène a fine stagione andrà via dal Napoli ma veramente ma certamente la società che non riuscirà ad acquistare Holland verrà a comprarsi Osimène Osimène è troppo più forte di tutti è un calcio quest'anno io ti dico che già quest'anno andrà via voglio fare solo non una polemica perché poi non sono abituato sono abituato solo a dire onestamente quello che penso ok con la polemica di Tudor volevo rispondere a Tudor io ne ho visti di Lecchini in vita mia ma come Tudor ne ho visti pochi ma perché che cosa incensare ti spiego anche ma per incensare perché Tudor è il candidato numero uno a prendere la panchina della Juve allora per pur di di fare fra Vlaivovic ah fra Vlaivovic Osimène lui disse Vlaivovic voglio dire che lui ha detto quella è più forte volevo dire ma con tutto il rispetto per Vlaivovic che manco il nome mi viene da dire l'altro ha delle quali l'ho visto il ritiro e l'ho visto l'ultima partita cioè lui ha dei margini di miglioramento spaziali giorno per giorno sembra che l'infortunio gli abbia fatto addirittura bene lo ha dato ancora più caldo magari lo ha rinforzato lo ha rinforzato una determinazione che non l'ho visto il ritiro quindi voglio dire se un giocatore anche stando due mesi fermo riesce a fare questi miglioramenti raga ma è come dico è giusto che una grossa squadra lo prenda ma è normale ma è normale il Napoli aspetta questo sono quei calciatori che purtroppo diventano passaggio qui il presidente ha detto che a 120 milioni non lo dava io volevo dire a 120 milioni il presidente lo incrapettava lo portava io credo che anche a 100 milioni anche a 100 milioni no voglio dire 120 milioni non l'ha data non ci crede neanche lui voglio dire non è così Osimen aveva lasciato intendere che si trattasse di un bomber come ce ne sono pochi in giro già a Lille quello è stato il suo anno nel quale ha avuto l'esplosione che pochi hanno capito perché comunque è un calciatore è un calciatore particolare Osimen cioè lo devi saper apprezzare lì dove non ce l'hai in un grande club poi vai nel grande club e dici ah ma quanto è forte Osimen è certo lo era già prima nel grande club ma aiutato anche dai compagni di squadra sarà ancora più devastante la stessa trafile la stessa trafile l'ha fatta Cavani Cavani veniva da e tutti dicevano no no Cavani si è consagrato a Napoli voglio dire non su questo il Napoli ha avuto sempre fiuto anche un po' di fortuna che non è facile poi spendere 20 milioni per un giocatore in Italia su questo ne dobbiamo dare atti e spenderne ma non lo so se sono veritieri 60 per Osimen che in due anni sono 70 a bilancio qualcosa in meno di 50 cash però sono 70 a bilancio voglio dire e poi migliorare ancora i 70 milioni spesi voglio dire non è da tutti poi puntare su questo e su questo bisogna darne atto a chi l'ha preso eh sì grazie Salvatore buonasera a tutti ti aspettiamo qua in studio con Francesco Rabona ti aspetto senza altro buona tirata grazie buona serata buona serata allora Raffaele abbiamo proprio due minuti hai lanciato una bomba che già vedo che i siti fra poco la ribatteranno io non sono Putin no 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 io do notizie buone notizie hai lanciato una notizia che mi arrivano dal mondo del calcio mercato che se mi permetti anche la scarsa modestia io frequento da anni e anche in maniera approfondita con gli uomini giusti Osimen quando finirà il campionato riceverà le offerte dei club che non riusciranno ad acquistare Holland quindi lì dove non andrà Holland ci andrà Osimen e sono club che hanno tanti soldi quindi il Napoli farà un sacrificio ma rifarà la squadra perché il Napoli vendendo Osimen si spera possa vendere anche Fabian Ruiz accumulerà quei 130 140 milioni di euro che tu rifarai per intero la squadra e avrai l'occasione avrai la fortuna di rinnovare i ranghi giocatori perché adesso il Napoli è una squadra da rifare De Laurentiis neanche se succedesse non lo diciamo ve l'abbiamo detto lo scudetto è una ragione in più per venderlo dice vince ma certo è una ragione in più per venderlo ma il Napoli non può trattenere calciatori così forti Osimen nei prossimi due anni sarà un calciatore da pallone d'oro ma non tutti lo hanno capito c'è ancora qualcuno che storce il muso che c'ha i piedi a papera dai ma ragazzi ma il calcio è una cosa seria cioè adeguatevi Osimen il Napoli non so come è riuscito a convincere Osimen a venire qua che le offerte ce l'aveva già a Lille ti dico un'altra cosa che già ho detto in altri in altri episodi e in altre puntate della tua trasmissione Fabian Ruiz anche se ho letto da qualche parte che De Laurenti si incontrerà gli agenti ma non è vero ma non è vero non è in calendario perché il Napoli non può dare a Fabian Ruiz i soldi che lui ha chiesto non glieli può dare Fabian Ruiz ha chiesto 4 e mezzo il Napoli non glieli darà mai allora che si incontra a fare con questi agenti per dire gli agenti ah per favore fateci firmare un contratto da 2000 euro al mese ma che devono fare gli agenti ma è normale che gli agenti si stanno guardando intorno il problema sarà se non portano la squadra quella è la paura mia sono due i club che potrebbero prendere Fabian Ruiz uno è il Real Madrid dove c'è Carlo Ancelotti che lo ha portato a Napoli l'altro è il Paris Saint Germain che è un club che uno ha ottimi rapporti con il Napoli due è un calciatore che a Parigi è apprezzato ma se non c'è la squadra e Osime non rinnova perché non rinnova c'è Fabian te lo dico chiedo scusa Fabian te lo dico già stasera ma l'ho già detto l'anno prossimo Fabian Ruiz andrà in tribuna chiaro questo è lo scenario sarà un'estate calda vabbè però abbiamo da vivere ancora questi due mesi c'è l'Atalanta domenica e poi tutte le altre noi ci vediamo giovedì prossimo grazie a Raffaele a Auriemma e buonanotte a tutti buonanotte a tutti grazie alla regia con Pasquale Rosiello grazie a Diego Marino Antonio Di Monaco e tutta la squadra redazionale noi ci vediamo domani dopo il governatore intorno alle 15.30 come di consueto con Club Napoli News giovedì con Club Napoli Night ciao e forza Napoli grazie a tutti